Scappa ti prego scappa Perché c'è mia sorella che sta piangendo che ci urla di scappare Mi sento osservato ho paura di essere seguita ancora Ma soprattutto perché c'è Sos che ha la maglietta completamente strappata Per rispondere a queste domande e capire esattamente questa storia bisogna fare un grandissimo passo indietro Ci siamo randonautica con Sara e Sos Io, Sos e Sara abbiamo deciso di giocare a randonautica di pomeriggio Io ho paura a fare queste cose però Perché hai paura? Perché che ne so magari ci porta in un camporomba come l'ultima volta Ma che in un camporomba si potrebbe essere? Quindi doveva essere tutto abbastanza tranquillo Anche se in realtà non è stato proprio così Randonautica è un'applicazione che ti dà delle coordinate precise in cui tu devi assolutamente andare E lì puoi trovarci di tutto Pensate che in America hanno trovato una valigia di arriva al mare con all'interno un cadavere Sì questa applicazione fidatevi funziona veramente Il problema è che siamo a rescaldino Ok va bene abbiamo un range di 3 km Pieno di boss Ma posso dire una cosa? Io metterei un posto che sia tipo lignano che non è circondato da boschi Eh no invece è proprio questo il bello Ma invece sicuramente ci porteranno i boschi Ed è perfetto No ragazzi Mio sorella era abbastanza agitata perché intorno alla città in cui abito io Ci sono un sacco di spacciatori e un sacco di boschi molto pericolosi Capite bene che non era la cosa più sicura del mondo da fare Però noi non ci siamo arresi e abbiamo deciso di farlo lo stesso Anomalie vai genera Ok le sta cercando raga la sta cercando Sarà sei ansiosa Pura 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 Così abbiamo il primo punto da esplorare Era esattamente in mezzo ai boschi E quindi già la situazione si faceva molto interessante Avete lo sprayer peperoncino qualcosa? Eh adesso Siamo di giorno Ne ha trovato uno Generate point È in mezzo al bosco vai No 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 È il campo rom che ci ha portato Non è il campo rom No sto scherzando Ma andiamo a controllare Raga è un campo rom Sì effettivamente un anno fa circa Eravamo capitati in un campo rom Nel pieno giorno Ecco Stop Stop Ma che cazzo C'è gente qua Si va ma che campo rom Qui siamo gente 16 minuti Perché io non mi fido di fare queste robe Io non volevo partecipare Allora dicevi subito di no Io ho paura Io sono una persona che ha paura Boh Sara Stiamo facendo un'applicazione che è un gioco Stiamo utilizzando un'applicazione che è ufficialmente un gioco Perché l'ultima volta ci ha portato in un campo rom Dove c'erano gli spacciatori È vero L'ultima volta eravamo in un campo rom La ricerca di qualsiasi cosa Che può essere effettivamente un pezzo di plastica in mezzo al bosco Anomalia E finiscono in un campo rom È assurdo È assurdo È vero che siamo capitati veramente Ma non è vero Luca te lo giuditi non ha testato Ma al massimo non ci fanno nientro Né un problema Ora 16 minuti e siamo arrivati E dopo 10 minuti di macchina Finalmente arriviamo nel punto indicato Qui praticamente la stata ce la dà di lì Dovremmo andare sullo sterrato E Siamo al cimitero brother Siamo al cimitero O meglio su una stradina che ci avrebbe portato al nostro punto Perché in realtà in macchina non si poteva proseguire Ma poi guarda le nuvole sotto al cimitero A me non mi va di fare queste cose C'avevo proprio paura E la strada finiva esattamente di fianco a un cimitero Non prometteva nulla di buono Vabbè raga scendiamo intanto Cos'è che si può trovare? Io non ho mai fatto Si può trovare robe strane Cioè come fa? Si fa l'applicazione a rilevare Non lo so Assumai qualcuno le segnala Fermo Fermo la macchina Non usciamo C'è un'altra macchina C'è un'altra macchina raga Adesso Gigi Se succede qualcosa mi sembri Come la vedi? Brother La vedo grigia come il tempo Guarda qua Guarda che roba Sì raga C'è un cane C'è un cane C'è un cane C'è un cane Sì anche il tempo non era dei migliori E appena arriviamo Vi stiamo un cane completamente libero Vabbè raga easy È un cane E cosa vuoi che faccio un cane da solo? No dov'è C'è il padrone Dov'è il padrone? È vero raga C'è un cane così libero qua Sara si stava già arrabbiando E non poco Anche soltanto per un piccolo cane Pensate quello che sarebbe potuto succedere dopo Fra già che c'è un cane No no È da solo il cane Guarda 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 Guardalo Oh se mi attacca a scala no Le faccio di cu*****i No Cone di merda No via Attacca Sara Attacca Sara No Luca stai fermo questo video Attaccala attaccala Non mi fai incazzare questi video Te lo dico No si stava incazzando Scusami il posto dovrebbe essere Il posto c'è qua no? Eh Posso vedere dove siamo per favore Bosco del ruga No non c'è Bosco del ruga Sara dai Raga ma che palle Ma perché io mi devo cacere Ma non sto scherzando Luca In serio Qui avanti brother Guarda Ti sto bene è casa mia Perché se no Non ti non boccano Io comunque la prima cosa che ho detto è Per favore ho le scarpe bianche Non andiamo dove c'è lo schifo Allora ragazzi State attenti Ragazzi State attenti qua Perché io sono abbastanza convinto Che qui ci sia qualcuno Perché secondo me potrebbe essere questo il posto Dove siamo andati altre volte Tra l'altro c'è anche il vento Che tipo sembra il vento dei film Ok ragazzi Questa sia roba è Si corre subito via Quindi il piano qual era? Qualsiasi cosa che succede Nessuno guarda nessuno Corriamo subito verso la macchina Guarda quanto dista il punto Guarda quanto dista il punto fra Comunque non vorrei dire Ma stiamo proprio entrando per entrare nel bosco Sara Il punto cieco era esattamente davanti a noi Nel mezzo dei boschi E il tempo non era neanche quello dei migliori Sembrava veramente una scena di un film horror Ma io voglio dire Cioè arriviamo con Che tipo di anomalie si possono trovare all'interno di questo Ma allora secondo me Cioè ci porta in posti roschi Però persone non ce ne sono Cioè persone non Secondo me ci sono tipo robe strane Cartelli strani Qualcosa di Comunque raga Qua avanti Qua avanti Potevamo venire in macchina tranquillamente Quanto ci dà? Quanto ti dà? E qui avanti? Ok Sara dobbiamo semplicemente andare avanti No raga è perché c'è il bosco Ma non mi va Quattro minuti ed eravamo arrivati Stavamo per scoprire cosa avremmo trovato E qua dentro 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 Siamo praticamente arrivati Guardate che qui a sinistra c'è il bosco Questo bosco qui è un bosco pieno di spacciatori eh E non sto scherzando No Oh raga vogliamo prendere questo percorso No col cavolo Lo prendi tutto da solo No raga stop Guardate qua che roba Però c'è proprio un percorso qui Ma come passiamo lì? Raga attenti Dobbiamo superare qua C'era una pozzanghera enorme Perché aveva appena piovuto E dovevamo trovare il modo di superarla Quindi la cosa migliore da fare Era quella di camminare sopra il concime Per chi non lo sapesse Il concime è merda di mucca Io farei una roba Passiamo da qui secondo me No 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 Non si può Come superiamo sto coso? Eh raga si torna indietro No Comunque non è che questa qui è merda Cos'è questa cosa qua? È concime papo È concime Comunque si può Concime vuol dire merda Comunque concime è merda Perché stiamo camminando sul concime Non ci posso credere Io sto anche guardando Se qui dentro il bosco vedo qualcuno Qualcosa che si muove Vai venite qui raga Quanto ti dà? Raga ma è troppo dritto Due minuti Guardate dentro i boschi raga Mi sa che è qua dentro Cos'è questa roba qua che c'è per terra? Sono tutte foglie queste Fermi un attimo raga fermi Vogliamo provare ad andare di qua No ma non Ma se L'anomalia dov'è che è? L'anomalia dice che abbiamo È qua Raga questo è il tipico bosco dove Dove le ragazze No Sara Ti stiamo addentrando un po' troppo raga Posso dirvelo È quella l'anomalia Che cos'è? La strada sbarrata È sbarrata la strada Sara? Questo qui è un bosco più anticente di me Perché non era la prima volta Che mi capitava di vedere qualcuno All'interno del bosco Non so se vi ricordate il video Dove abbiamo fatto l'esplorazione con Cap Via 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 Dove 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 Ah è vero È vero Oddio L'ho visto E quindi decidiamo di addentrarci nel bosco Ah ma raga ma guardate che cos'è Ma è un albero enorme Ma è un albero enorme brother Abbiamo trovato un albero enorme Un albero gigantesco Che era appena crollato Che sbarrava tutta la strada In mezzo al bosco Incredibile Ma rispetto a quello che sarebbe successo dopo Non era veramente nulla questo Anzi sono più alberi No è uno solo O due Ma è no C***o Vedi che siamo Mancano 20 metri È questa Perché comunque come passa In ogni caso Ma secondo me è caduto Quando c'è stata la pioggia in tutta Milano È presente quando c'è stata tutta la pioggia Guarda qua Sono più alberi che sono tutti caduti Ma c'è Sara che si sta proprio cagando Sara sei in un bosco Non c'è niente Non c'ho paura io di queste cose Sara era super agitata Si continuava a guardare in giro Perché pensava ci fosse qualcuno In mezzo al bosco Che non è impossibile Quindi la tensione piano piano Iniziava a salire Questo broder è molto più grosso Vieni a vedere quanto è grosso È tipo il mio Qui è caduto l'albero Guarda le radici Sara perché ti continua a guardare intorno Ma delle radici dell'albero Non mi fai niente Raga non mi fai capito Raga c'è Sara che si sta proprio cagando Vuole andare via Andiamo via Torniamo indietro il prossimo Vai Sara Sara perché stai correndo via Sara impanicata Si mette a correre Verso l'uscita del bosco Non si sa per quale motivo Ed una certa però Mentre usciamo Sentiamo un rumore Ho sentito qualcosa anch'io Quindi già Sara Era impanicata Fai impanicare anche noi E corriamo subito Verso l'uscita Che c***o era? Ma l'hai sentito anche tu? Ma cos'era broder? Oh ma Hai sentito? E appena siamo usciti Iniziano a suonare fortissimo Delle campane Come se fosse tipo Un segno di allarme Per dire Guardate che c'è qualcuno Andate tutti via Andiamo via allo spesso Hai sentito pure no? Vuoi campare? Si è da campare del cimitero Ah del cimitero Forse quello del cimitero Poi mi sembrava Sembrava venisse da lì dentro Per questo motivo Decidiamo di tornare Immediatamente alla macchina Raga Sara guardami bene Se questo video arriva A 30.000 like No lo faccio Lo facciamo di notte Dai Sara No no ce l'hai tu Raga 30.000 like Lo faccio di notte con Sara Lasciate like Avete capito bene Se arrivo a 30.000 like Facciamo questo video Di notte In piena notte Ora però passiamo subito Al secondo punto Che sarà quello più interessante Di tutti Il prossimo punto è questo qui Via Giovanni Pascoli Perché sinceramente E' a Rescaldina Però Non mi sembra ci sia nulla Guarda C'è una zona Non mi sembra ci sia nulla Non ho idea di dove sia Allora forse dobbiamo andare qua avanti Chiaramente Dai va bene Andiamo Andiamo Questo qui mi sembra abbastanza tranquillo 12 minuti di macchina si va Forza Sos Gioci Quindi partiamo 12 minuti di macchina E si va al prossimo punto Fermo Prima di continuare il video Controlla di essere iscritto al canale E se non lo sei Fallo subito Siamo lì Siamo praticamente arrivati raga Fin qui è tranquillo Io qui ci vengo a piedi A camminare Ok esatto Dovrebbe essere Guarda qualche parte Guarda qui là Effettivamente C'è un posto Cioè non c'è nessuno Non c'è nessuno Esatto Se lo sapete scrivete Cioè Come fa l'app A trovare tutti questi Posti strani e particolari Come quello di prima Cioè c'era proprio L'albero distrutto enorme lì Come fa l'app a sapere Tipo dai satelliti Comunque qua avanti Secondo me sarà qui avanti Da qualche parte Frate te lo dico io Vai giù tutto dritto Vedi Ah ci dice di entrare In quel bosco libero Ah ecco Vedete davanti a noi C'era praticamente Un vicolo cieco Con soltanto un bosco E l'app ci diceva Proprio di entrare In quella via lì Vai avanti Vai avanti Voglio vedere io cosa c'è Cosa sono questi Io ti direi Parcheggia la macchina qua Così in caso Qualsiasi cosa La macchina era già pronta Entriamo Vum E vogliamo via Però prima Volevamo andare a fare Un'esplorazione All'interno del bosco Con la macchina Per vedere cosa c'era Facciamo un primo Cerca con la macchina Se fa schifo il terreno Io C'è una macchina C'è una macchina Ferma Ferma Vedo una macchina bro La vedi Stop Ma guardate Dentro al bosco C'era già una macchina Ed è molto strano Che ci sia una macchina Parcheggiata In mezzo al bosco Anzi se guardate bene Ce ne sono due Ce ne sono due Ci sono due macchie Perché c'è una macchina Dentro i boschi C'è una macchina C'è una macchina C'è una macchina Ferma dentro i boschi bro Quell'altra dietro È super strana Oh c***o Fermati fermati C'è una macchina C'è una casettina E una macchina Due macchine E notiamo che all'interno dei boschi C'è una piccola casetta In mezzo al nulla Veramente super inquietante Quindi andiamo avanti Per il tragetto Sempre in macchina Per capire cosa si nascondeva lì dentro Lì c'è una casetta Guarda lì Guarda lì No scendiamo No 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 Non c'è la mia sorella Che si stava iniziando Di impanicare La situazione era molto particolare La tensione stava salendo Sempre di più Ma proviamo soltanto Ma no raga Ma una casetta Ma proviamo In mezzo al bosco Ma non esiste proprio Oh c***o bro Anche l'altra macchina lì Guarda che clamorosa Anche la macchina lì così No raga Qui sicuramente c'è qualcosa che non va Prova di andare avanti E vediamo che c***o Entra la macchina qui Piano 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 Sono già chiuse Non si può prendere da fuori Perché c'è una macchina qui Ferma nei boschi così Brother Ma che c***o è Vai piano Vai piano No però non è Ma sta qui dentro C'è gli spacciatori Te lo dico io Guarda che roba Guarda che roba brother Bosco Rugoredo Dove c'è scritto? No il bosco 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 del Rugoredo No del Rugoredo Bosco del Rugoredo Che è un bosco Che va direttamente Dalla mia città Al bosco effettivo Di Rugoredo Che è uno dei boschi Peggiori di tutta l'Italia No 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 Non sto scassando Non mi piace Perché me l'avevo già sentito Una roba di questa casetta Guarda che scassi Perché già lì è l'uscita Non scendiamo Io voglio scendere E vedere cosa c'è E tu stai chiusa Ok Tanto sai siamo di giorno Cosa vuoi che ci sia qui Non c'è niente Ritorna lì e parcheggiamo tipo lì Io voglio soltanto andare a vedere cosa c'è Mettila qui sull'erba Tanto ti chiudiamo le portiere Sara Niente non c'era nessun modo Per far scendere dalla macchina Non voleva scendere per nessun motivo Quindi siamo andati all'esplorazione Soltanto io e Sos Senza sapere quello che poi ci sarebbe successo Sempre nei guai Sempre nei guai Sara dai vieni anche tu Esci soltanto Sara Esci soltanto qui Esci soltanto Ma vai soltanto lì Vabbè Guardati intorno Qualsiasi roba apri Andiamo andiamo Guarda che è super lo scofra Ti assicuro che quella macchina lì Lo diceva mia sorella Per non farla preoccupare Ma quella macchina libro è peso Intanto però ci avviciniamo All'altra macchina parcheggiata Lì vicino a noi Il posto è questa macchina qua Intanto frate Questa è una macchina Questa qui è una macchina di qualcuno Ma ho paura perché è parcheggiata qui Qui c'è una catena Per non far passare le persone E anche quella però era molto strana Perché ci dovrebbe essere una macchina parcheggiata Esattamente in quel punto Non ha senso No però cosa facciamo Senti il posto ce l'ho da lì Il posto ce l'ho da lì A quella casetta Io passo Anche se la situazione non era delle migliori Decidiamo comunque di sorpassare la catena E andare a vedere cosa c'era Speriamo qua Ok però Vai Super attento per fortuna e giorno Pronti notte qui mi cagerei Adesso in una maniera incredibile Dal vivo fa ancora più impressione C'era una casetta nel mezzo del nulla Circontata da alberi e boschi Era veramente super impietante Se cosa c'è dentro qualcuno Grazie spero di notte Cerca una casetta così in mezzo Quando ad una certa però Sentiamo dei rumori Delle urla E nel frattempo però sentiamo anche qualcuno Che suona il clacson O comunque qualcosa Per fare il rumore Ma era veramente di fianco a noi Lo sentiamo da super vicini Come se fosse l'altra macchina Che abbiamo visto prima Che volesse dire a qualcuno Che c'era qualcuno Che stava cercando Che cazzo è Raga io sento delle grida Stop stop Vieni qua Gigio No bro io sento delle grida E chi è che suona Sara con la mia macchina Sara con la mia macchina Stop Non era Sara Lo scoprirete anche dopo Non era Sara C'era qualcuno che continuava a suonare Stop stai fermo Gigio Fermo 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 Vai tu vai solo tu vai solo tu Continuiamo a sentire queste grida Ma non capiamo esattamente Da dove provengono Quindi ci avviciniamo Io non vengo No Fra stai Torna qui Io sono troppo curioso Di sapere chi c'era Notiamo che c'era qualcuno All'interno della casetta Proprio quello in cui stavamo andando noi Ma lo stesso Ci avviciniamo sempre di più Piano piano Per capire chi fosse Io rimango un po' più indietro So se invece si avvicina Vieni via Gigio Porco diaz Ma poi cos'è sta roba Perché c'era Sara Che sono qualche laxone Ma c'è qualcuno Corri Ma che cazzo Qualcuno gli aveva appena lanciato una bottiglia C'era una specie di russo ucraino Non si capisce Sentite dalla voce Che continuava ad urlare Come se ci fossero in realtà Due persone all'interno di quella casetta Così entrambi decidiamo di scappare E correre alla macchina Grazie a tutti Orco diaz Ma che cazzo è E troviamo all'interno E troviamo all'interno mia sorella Già super impanicata Perché non era lei che suonava il clacson Ma sentiva anche lei quei rumori Chiudi forte Chiudi 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 Vai guarda dietro Guarda dietro Guarda dietro Guarda dietro Guarda dietro Guarda di Non è scappa C'era mia sorella Che era terrorizzata Terrorizzata Scappa Mi stai prendendo per il culo spero La situazione stava veramente degenerando Io ti ho detto zio che sentivo delle voci Eri tu che suonava il claxon Non eri tu che suonava Non era Sara che lo suonava Non si sapeva chi fosse Non eri tu che suonava il claxon Eri tu o no che suonava il claxon Ma va a culo eri tu Non ero io che stavo smanendo più scritto Chi era qua ti prego vai via Aspetta tu sai No perché In che senso tu sai guidare questa è automatica Cosa sta succedendo Sto io dentro la macchina Cosa è successo Non dirmelo che c'hai fatto Era il tuo telefono Sos aveva perso il portafogli Probabilmente gli era caduto Mentre stavamo scappando No ciccio vai via ti prego Ti prego ti prego giuro Sto io qui in macchina Sto io qui in macchina Sto io siamo io e te in macchina Siamo io e te in macchina Ma qui in fondo No di fianco a me ti prego Ma chi cazzo Facciamo così Vai via Siamo scherzo di me Ma sei stupo Porco di essere Siamo organizzati voi due Ma mi sono organizzati voi due Non c'è nessuno Il tuo non ce l'ho io Sì raga ce l'ho in macchina Ma porco di essere Il tuo telefono non ce l'ho io Pro Ma non può mai venire qui No raga qua Alza il culo zio Ce l'hai tu sotto il culo 100-100 Ma è lui quello che No non è lui Non è lui Stop Ad una certa vediamo Una persona che si avvicina a noi Era lui o non era lui Oh ma quello che sta arrivando È lui o quel tipo di prima o no No non è quello di prima Non è quello di più È il mio telefono raga Non ho qua Eh porca puttana È qua non me ne finisce È qua zio porco No andiamo via raga Raga io faccio una roba Sto io in macchina Sto io in macchina Sto io in macchina con te Sto io in macchina Sto io in macchina Sto io in macchina Ma io di chiudo Guarda i discorsi Ma che cazzo Io faccio Io faccio una videochiamata E vado a prendermi il portafoglio Sto io in macchina con te Dammi le chiavi Io vado con questo signore qua Vaffanito In che senso io vado da questo signore qui C'erano degli operai Di fianco dove avevamo parcheggiato Che stavano sistemando una casa E quindi Sara cosa decido di fare Va a chiedere aiuto a loro Lei era terrorizzata Dove che vai? Dove cazzo Ma dove cazzo sei? No vabbè raga Sara è impazzita Ma qui non c'è nessuno Gigi Ma che cazzo sta facendo Sara? Nella corsa Nello scappare raga C'era il mio portafoglio L'ho perso completamente Non lo lascio lì Non me ne frega niente Anche se ci sono i matti Fan cu Porca puttana Raga ma dove cazzo sta andando? Sara ma tanto qui Siamo dove sei? No stai piangendo Sara si era messa a piangere Era terrorizzata Non sapeva cosa fare In quel momento Era veramente disperata Anche se in realtà Non c'era più nessun pericolo Perché eravamo ormai lontani Dal bosco in cui eravamo prima Stai piangendo Sara Ma siamo qui in mezzo alle case Cosa ci stiamo in qui? Sara era veramente convinta Che fosse uno scherzo No è uno scherzo di merda Ancora? No è uno scherzo Dai che è sicuro È uno scherzo Ok ma sei stupida E chi cazzo? Ma va Guardami io È uno scherzo Non è uno scherzo È uno scherzo Vabbè 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 Allora stai qui C'è il giro che sta correndo Viene qui Viene qui Viene qui Guarda Intanto Sos manda un vocale a Sara E nel frattempo ci fa una videochiamata Per vedere quello che intanto stava succedendo Sara io sto andando a prendere il mio portafoglio Ti mando l'audio per sicurezza La macchina è sparita Non c'è più E nel frattempo Quando Sos torna Nota che la macchina in fondo Che avevamo visto all'inizio Non c'era più Vuol dire che se n'era andato via Ma perché se n'era andato via Proprio nel momento esatto In cui a noi era successa questa cosa Non è che pensavano fossimo i carabinieri Io non l'ho visto andare via la macchina Viene qui Ma tiene qui Sara C***o Cosa vuoi che ci sia qui Non l'hai trovato Ma dici che te l'ha rubato lui? Eh ma l'ha preso quel tipo libro È passata la macchina di prima vero? Sì è passata la macchina di prima Sì 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 Quella grigia Eh raga la macchina del tipo Non c'è lì Non c'è più Non c'è più? E come ha fatto? Vieni qui bro Ma vieni qui Sì c***o il portafoglio Vieni qui Ma c***o cosa bro C'ho tutto C'ho la patente C'ho la carta d'identità Ti aspettiamo qua Ti aspettiamo qua Ma hai bisogno Che chiediamo qualcuno Io con te Vabbè Quando mentre era in videochiamata Arriva qualcuno Che lo spinge per terra Gli ruba il telefono E scappa via La situazione stava degenerando In realtà no Perché questo È quello che era successo Due ore fa Ragazzi sto facendo il cattivo Per fare lo scherzo a Sara Ho trovato una bottiglia In macchina di birra E voglio provare a lanciarla In qualche modo Quindi non glielancio addosso Però per rendere tutto Un po' realistico Raga fare sta parte La peggiore Te lo giuro La parte del cattivo Perché mi sento osservatissimo Sto cagando addosso Ragazzi due coglioni Sì avete capito bene Era tutto uno scherzo Era tutto uno scherzo a Sara Ma in realtà Non proprio tutto Perché effettivamente In cui boschi C'erano veramente degli spacciatori Il clacson Non eravamo noi Che lo suonavamo Non sapevamo chi fosse C'era qualcuno in mezzo al bosco Che lo suonava Quell'altra macchina parcheggiata In mezzo al bosco Non eravamo noi L'unica persona Che era il nostro complice Era lui Piccio Sì il ragazzo Che parlava russo Ucraino Che era nascosto all'interno Della casa E a questo punto Verrà purtroppo Sara Scopre lo scherzo Cerco di convincere Sara Che in realtà Non era uno scherzo Utilizzando un po' di psicologia Inversa ma Ma va Fammi vedere Apri la videochiamata Ci crede Non ci crede Ma va Dai Ma che scherzo Sì dai Sì sì Tu me la vuoi fare Bastardi Raga gli ho scoperti subito Avevo visto una storia Che quando piangeva Faceva finta E si riperda Ho visto che tu Appena hai visto Che sembrava fake E chi so Chiamata Anche se però poi Effettivamente Continuava a chiamare Sos Per capire dove fosse Per dirgli che appunto Era uno scherzo Che lei l'aveva capito Chiedi a Gigi Non sto scherzando Guarda che io non faccio Non sono un po' di scherzi Non sono una po' di una come te Ma lui non mi risponde Sos non mi risponde Alle chiamate Te lo giuro sulla mamma Non sto scherzando Te lo giuro sulla mamma Ma lei mi sono Mi sono collegata a Gigi Sop Capiamo un attimo cosa fare No perché Le ha andato il telefono Per te E si possono urlare Ah no È un po' di scherzo Ma nel frattempo Cosa succede Tutto distrutto Raga Nello scappare Mi ha tirato tutto quanto Ho perso il portafoglio Sono entrato indietro A prenderlo Sos aveva veramente Incontrato qualcuno Quando stavo parlando con Sara Mi ha aggredito dalle spalle Sono riuscito a prendere il telefono Sono scappato Adesso sono in mezzo ai boschi È riuscito a riprendersi il telefono Ma guardate come era conciato Era tutto strappato Ed era in mezzo ai boschi disperso Era veramente successo qualcosa Poi mi sento osservato Paura di essere inseguito ancora Quindi quando tutto Doveva essere uno scherzo E tutto doveva essere finito Veramente Sos ha incontrato Quelcuno nei boschi Che lo voleva picchiare Per fortuna è riuscito a scappare Ma adesso è disperso lì Il problema è che ho paura Di uscire Perché magari è lui Con l'auto Dico esattamente ora Le cose come stanno Così arriverò a Sara Veramente la verità La persona era uno scherzo Ok scordami La persona era uno scherzo Il clacson E le urla dentro No te lo giuro Su quello che vuoi Le urla quali? Quelle che c'erano all'inizio E il clacson Non era uno scherzo Per quello che mi sono cogliato Le urla dentro quali? Quello nell'altro bosco Esatto Non era uno scherzo Oh porco Dio E Gigi adesso dove è? Appunto Non mi risponde al telefono E non erano questi piani E la macchina che è appena andata via Che ho ripreso Era la macchina del complice E non ho visto chi la guidava E ti giuro Chiamati Gigi mi sta per rispondere Il telefono Lo giuro su quello che vuoi Ho citato noi Luca E Sara Sono ancora lì alla macchina Meno male Ma che c***o è successo? Che c***o è successo? Così ora lui ci spiega Quello che effettivamente È successo dopo lo scherzo Zio caro Stop Stop Non è uno scherzo Guarda lui adesso com'è Non è uno scherzo Io ho perso il cappello Non è uno scherzo Guarda secondo te Mi strappo da solo È presente il clacson Alla fine c'era il tipo Ma tu sei rimasto nascosto nel bosco? Sono rimasto nascosto nel bosco Per 15 minuti Luca e Sara No E poi cosa hai fatto? Eh niente Più a me sono tornato sui miei passi Cercando se ci fosse ancora il tipo Ah Sara Se stai vedendo questo video Visto che non te l'abbiamo mai detto Anche tutti i suoi vestiti strappati Erano uno scherzo In realtà non è successo nulla All'interno dei boschi Ora lo dico anche a voi Era tutto organizzato Cioè in realtà La macchina in fondo Il clacson eccetera No Ma il fatto che lui fosse Completamente con i vestiti strappati Sì Era organizzato Fatemi sapere quanti di voi Nei commenti ci sono cascati E quanti di voi ci hanno creduto Fino alla fine Che non era uno scherzo Che era tutto vero Iscrivetevi e chiamate la campanellina E fatemi sapere se volete altri video